Salve a tutti e benvenuti alla nuova lezione del corso QGIS per l'ingegneria idraulica. Oggi nello specifico andremo a vedere come è possibile determinare il modello di ombreggiatura, definito in inglese il shade, a partire dal nostro DTM che abbiamo determinato nelle lezioni precedenti. Come prima operazione andiamo su Raster, Analisi, Ombreggiatura. Il modello delle ombre permette fondamentalmente di determinare l'illuminazione della superficie del DTM in funzione dell'altezza del sole sull'orizzonte ed è molto importante in quanto ci permette di individuare eventuali errori che sono stati effettuati durante la fase di realizzazione del DTM. Come prima operazione andiamo Q e mettiamo come raster in ingresso il nostro bacino DEM. Lasciamo in input i valori. Come possiamo osservare qua chiede in ingresso l'azimuth della luce e anche l'altitudine della luce. Andiamo e clicchiamo su Calcola i margini e infine andiamo a salvare il nostro file che chiamiamo Ombreggiatura. Salva. Esegui. Chiudiamo e andiamo ad analizzare il nostro file. Deselezioniamo le curve di livello e possiamo innanzitutto osservare che esistono delle zone caratterizzate da una forte macchia nera che fondamentalmente possono essere dovute a delle zone particolarmente ripide, ad esempio dei versanti, oppure anche a degli errori che possono essere dei veri e propri crateri o spuntoni del DTM che possono essere sia di origine naturale che anche di origine dovuta ad errori effettuati durante la fase di realizzazione del DTM. Questi errori ovviamente vanno corretti, soprattutto se situati in alcune zone particolari in cui è presente ad esempio il nostro corso d'acqua che è sede di analisi più approfondite. Ad esempio se andiamo a zoomare, particolare, possiamo notare come esista questo effetto quadrato proprio di natura legata al pixel. Per poter modificare questo effetto dobbiamo andare semplicemente su tasto destro, proprietà e andiamo su ricampionamento e selezioniamo bilineare. Andiamo su applica e possiamo vedere già la differenza, come questo contorno adesso sia più sfumato e sia più leggibile. Anche per oggi è tutto. Se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a mettere mi piace o a commentare. Grazie, buona serata.